Giovanna Parrino, come e perché nasce questo libro? Questo libro nasce a conclusione di un biennio importante che è stato proprio il centenario della nascita e poi il decennale della beatificazione della Beata Pinasuriano e come azione cattolica insieme al santuario, alla confraternita, alla scuola di teologia di base ma chiaramente a tutta l'arcidiocesi abbiamo pensato di pubblicare tutti gli scritti della Beata Pinasuriano è un sogno che già non è un sogno nuovo ma è un sogno antico e finalmente viene alla luce abbiamo lavorato su il dattilo scritto di Don Andrea Soresi, abbiamo trascritto pagina per pagina proprio i diari, i manoscritti che sono conservati nell'archivio qui del santuario della Beata ed è venuto fuori questo volume molto significativo perché ci dice quanto la Beata abbia scritto quanto sia stata in grado di trasmettere il valore della fede anche attraverso la scrittura e poi sarà bello scoprire, è l'invito proprio al lettore che facciamo, scoprire quanta scrittura quanta sacra scrittura c'è nelle pagine di Pinasuriano quindi questa edizione anche ci racconta un volto inedito oggi si ricordano i 65 anni dal primo voto alle donne il primo febbraio del 1945 Pinasuriano ha lavorato ha lavorato una settimana prima per proprio educare le donne al voto per portarle al voto e quindi ci dice anche un impegno civico importante di questa Beata che forse non è molto conosciuto Padre Ruggirello, oltre 800 pagine di un volume che racchiude gli scritti della Beata Pinasuriano ma cosa contiene questo volume? Contiene tutto quello che la Beata ha saputo affidare a delle carte sono carte diverse, abbiamo sia dei diari, quindi i suoi quadernetti ordinati anzi in alcuni proprio lei si prefiggeva di riscrivere nuovamente il contenuto e poi abbiamo le lettere, o meglio le minute delle lettere cioè quelle brutte copie che poi servivano per scrivere direttamente la lettera che non abbiamo diciamo nell'originale ma abbiamo appunto queste brutte copie ecco a partire da questi manoscritti, secondo un ordine che poi fu dato dalla postulazione nel 1969 noi abbiamo oggi la possibilità di avere uno spaccato anche della parte inico dal 1915 fino al 1950 attraverso la scrittura di una donna appassionata non soltanto della fede ma proprio come si è detto della sua città era una donna innamorata proprio della città e anche e soprattutto di poter trasmettere a tutti l'amore che aveva per Dio perché sapeva che lei come lievito poteva trasformare proprio la città all'interno noi troviamo delle testimonianze la prima è qualcosa di inedito sono le parole stesse del suo primo biografo Don Andrea Soresi che fu anche il suo ultimo padre spirituale proprio lui ha annotato in un libro che abbiamo voluto trascrivere sono poche pagine ma che ci dicono come lui ha raccolto tutti i testi si era rivolto alla madre e Pina teneva in una vetrina tutti questi scritti ordinati in un archivio lui non ha fatto altro che prendere questi scritti e cominciarli a ordinare ecco tutto questo passaggio ha facilitato tantissimo la trascrizione e noi abbiamo avuto così modo in maniera strutturata di poter analizzare ogni singolo scritto si tratta di più di 1400 pagine che oggi compongono l'archivio di Pina Suriano distribuito in alcune buste ecco a voi poi il compito di scoprire altre parti e l'indice dei nomi, dei luoghi, delle citazioni bibliche arricchiscono con un appendice documentaria questo lavoro Monsignor Pennisi un libro che racchiude gli scritti della Beata Pina Suriano qual è il significato di questo volume? questo volume ci aiuta a conoscere meglio la Beata Pina Suriano ecco una persona che non ha fatto grandi pubblicazioni ecco però che viene pubblicata un'opera di 800 pagine ci fa capire come lei che era militante dell'azione cattolica ecco si è interessata sia nel diario sia nelle conferenze sia negli scritti religiosi di vari argomenti che riguardano la vocazione cristiana che riguardano il compito del laicato lei che è stata un'innamorata anche della città di Partinico si è impegnata non solo a livello religioso ma anche a livello sociale a favore delle famiglie, a favore della povertà e quindi penso che sia veramente importante questo libro perché ci fa conoscere nella sua complessità ecco questo personaggio ecco questo personaggio che per noi è importante perché è una Beata e questo qui potrebbe anche essere utile per diciamo avviare se ci sarà il miracolo anche alla causa per la canonizzazione Padre Geraci, la Beata Pina Suriano amava Partinico e questo libro cosa significa per la comunità partinicese? La Beata Pina Suriano è una partinicese è vissuta a Partinico ha lavorato a Partinico faceva parte dell'azione cattolica e quindi era impegnata nelle parrocchie certamente Pina Suriano era arrivata alla quinta elementare allora non c'erano scuole superiori a Partinico però ha lasciato un sacco di quaderni i quaderni, i manoscritti per cui questi quaderni io li conservavo qua nell'archivio del santuario intitolato a lei quando io sono stato nominato il rettore del santuario avevo questo desiderio di vedere pubblicati questi quaderni questi manoscritti chiamiamole così finalmente questo sogno è diventato realtà per cui questa sera presentiamo questo libro un libro abbastanza voluminoso e con questo libro tutti i devoti della Beata possono leggere tutti gli scritti della nostra Beata sono sicuro che attraverso questi scritti ci sia anche un miracolo per cui la nostra Pina Suriano da Beata possa diventare anche santa questo è l'augurio che io sono contento di questa presentazione e do un saluto a voi e un augurio a tutte quelle che questa sera sono qua Sindaco anche lei oggi qui alla presentazione del libro sulla vita di Pina Suriano Sì, è un momento importante c'è la presenza dell'Arcivescovo di Monreale a presentare il libro della vita di Pina Suriano scritto da Giuseppe Ruggirello e da Giovanna Parrino due persone che sostanzialmente hanno rivissuto la vita di Pina Suriano e hanno messo tutto nero su un bianco io ancora non ho avuto modo di leggere il libro ma con attenzione ora lo comprerò lo leggerò perché è una bella esperienza di vita e noi siamo felici e lieti di aver avuto una Beata e speriamo che a breve diventi anche santa perché è un orgoglio per la comunità partinicese ma anche per tutta la Diocesi di Monreale